Salve a tutti ragazzi. Salve, 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 salve. Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. ho notato che sta riscoltando piuttosto come è successo quello che faccio su YouTube mi sta piacendo parecchio, ho ricevuto dei commenti che a me personalmente hanno fatto piacere volevo chiedere scusa per lo scorso video che ho avuto problemi di luminosità quando l'ho riobriciato abbastanza di cosso mi sono arraggiato con un faretto red messo di sopra nella telecamera quindi dovrebbe essere più luminoso questo video che andrò a fare oggi seguite il video fino alla fine spero che vi piaccia e buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti